chiesi al mio dio cosa ne sarà di me davanti agli occhi chiusi della mente prese rovita e fotogrammi di un funerale si sta svegliando ciao siamo arrivati ce la fai? si voglio provare a camminare da solo si voglio provare a camminare da solo che quita ho sempre amato questo luogo fin da quando ero un bambino grazie grazie a tutti grazie a tutti ma cosa sta accadendo? non riesco a muovermi perché piangete? padre che succede? non mi sentite? ma questo sono io allora sono morto non ho fatto in tempo a dirvi niente ma chi siete voi? io sono alfa io sono omega sono morto vero? beh, nel linguaggio portale si ma in realtà hai soltanto abbandonato il tuo imbolo romano stai tranquillo tutto ti sarà spiegato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti A presto. 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 A presto.